Siamo pienamente consapevoli della problematica che viene quotidianamente monitorata ed è nostra volontà porre in atto ogni soluzione per risolverla. Inizia così una nota dell'amministrazione comunale di Arezzo a firma del sindaco Alessandro Ghinelli e dell'assessore all'ambiente Marco Sacchetti in merito ai cattivi odori lamentati da diverse zone nella periferia della città ormai da oltre un anno. Ricordiamo, dicono ancora, che dalla scorsa estate Arpat e Asl hanno effettuato più di 400 rilevazioni così come AISA ha effettuato i dovuti controlli. Riguardo invece la natura delle emissioni odorigine viene lamentato frequentemente odore di spazzatura. Si tratta esclusivamente, precisa la nota, di odori generati dai processi di trasformazione della materia organica provenienti dalla raccolta differenziata e non dalla termovalorizzazione. Abbiamo chiesto ad AISA Impianti di attivarsi per comprendere se la linea di compostaggio dell'impianto potesse essere una causa delle maleodoranze e l'azienda, per quanto tutte le analisi effettuate continuassero a confermare il rispetto dei limiti, ha comunque deciso di investire altri 2 milioni di euro nel potenziamento dei biofiltri e dei sistemi interni di monitoraggio su altri punti dell'impianto. Intanto il Comune, considerato che ad oggi le cause dei cattivi odori non sono ancora state individuate con certezza, di concerto con Arpat e ASL commissionerà ad una società specializzata uno studio olfattometrico di aria vasta, con l'obiettivo principale di definire in termini quantitativi la natura del fenomeno, la sua diffusione, la sua intensità e la sua persistenza.